ciao ragazzi bentornati anche oggi qui su un box italia oggi andiamo a vedere i nuovi iphone 14 pro in questo video e ne abbiamo anche più di uno vedremo anche i nuovi colori ma prima di partire con l'unboxing vi ricordo due cose primo iscrivetevi al canale se volete anche lasciate un bel like e seconda cosa vi ricordo che con il link che trovate qua sotto grazie a carta hype potete avere uno sconto su questi iphone fino a 25 euro grazie al codice che vi metto qua sotto perciò dateci un'occhiata allora cosa abbiamo qui come vedete abbiamo due iphone pro max e un iphone 14 pro normale per quanto riguarda l'iphone 14 non pro abbiamo un video dedicato partiamo con l'unboxing di questo qua come sapete questi iphone hanno i sigilloni e dunque eccoci qua andiamo a rimuovere primo sigillo si percepisce che è proprio fatto in carta adesso è il secondo sigillo ok fatto questo possiamo tornare a noi e unboxare questo pro max questa è una delle nuove colorazioni il nero siderale sapete sempre che nella confezione trovate l'usbc lightning e basta niente altro avere la spilletta per la sim e a questo punto ci accontentiamo fintanto che c'è il cavo guardate comunque che bella questa colorazione dove le fotocamere sono veramente molto molto scure e ovviamente le fotocamere sono più grandi sono ogni anno sempre più grandi sì perché qui abbiamo per esempio una fotocamera principale da 48 megapixel che vi permette di fare delle foto incredibile abbiamo un teleobiettivo 2x aggiuntivo garantisce i dettagli incredibili nelle foto pro raw appunto da 48 megapixel la fotocamera frontale invece ha un autofocus migliorato per selfie più nitidi ma torniamo a noi sì che parlare di fotocamere guardate questa finitura laterale ve la voglio confrontare con il mio attuale iphone 13 colorazione graffite eccolo qua questo è il mio 13 pro in colorazione graffite guardate la differenza nel gruppo fotocamere quanto è più scuro quest'anno nella gamma 14 veramente parecchio rispetto al mio guardate anche il flash è che il mio è sporco ma guardate c'è tantissima differenza c'è veramente tanta differenza ve lo mostro anche nelle parti laterali come sono più specchiate le mie rispetto alla nuova colorazione nero siderale andiamo avanti con la spellicolazione che è un momento che tutti si aspettano sempre gratificante ora da spento si vede questa dynamic island che il nuovo notch qualcosina si intravede qua ma molto poco comunque approfitto dell'inquadratura per farvi apprezzare l'altoparlante sempre più minimale e sottile veramente sempre di più lo vedete da qui si può anche vedere il dynamic island piccolino come comunque questo è secondo me un dettaglio interessante la vibrazione qui è sempre arancione e questo è il modello comunque che ovviamente ancora il vano sim e adesso guardiamo le altre colorazioni e sì perché in Italia uno dei colori più richiesti è questo nuovo viola ok deep purple o viola scuro sì una colorazione esclusiva per il 14 pro e il 14 pro max eccolo qua contenuto della confezione il medesimo ma voglio vedere insieme a voi da vicino questa nuova colorazione ditemi poi la vostra nei commenti se vi piace oppure se non vi piace cosa ne pensate ovviamente stiamo parlando di laterali in acciaio che raccolgono sempre le impronte comunque pronti a vedere il dynamic island eccola qua eccola qua dove possiamo apprezzare questo nuovo notch completamente nuovo ma ho per voi anche quest'altro iphone qui che appunto avevo già preparato che è un 14 pro perciò sempre nero siderale nella versione piccolina e qui anche abbiamo un altro dynamic island abbiamo la luminosità magari un po più ampia però diciamo che è carino da guardare anche sul display più grande possibile qui abbiamo un po di foto un po di cose proviamo un po di musica ed ecco che la musica va direttamente sul nostro dynamic island io posso poi cliccare e interagirci non è niente male avete visto una cosa carina che si può aggiungere appunto è il suono in fase di spegnimento e anche il suono in fase di accensione la sua luminosità è talmente elevata che guardate quanto dà fastidio alla fotocamera conseguenza devo mettere una luminosità inferiore perché veramente questo display è eccezionale allora 14 pro e 14 pro max arrivano con appunto questa nuova classe di fotocamere il dynamic island è sicuramente la parte più interessante di questo device dove molteplici app si possono appunto buttare là sopra quando sono in inutilizzo così che poi possiamo avere un secondo come dire una sorta di widget lassù questo è grazie alla dynamic island no? perché grazie a questo è facile accedere alle informazioni, tenere traccia dell'attività e come il display always on siano sempre sott'occhio tutte le informazioni importanti questo è una grande grande novità poi diciamo che molte novità sono grazie a ios 16 mentre altre magari sono grazie appunto al 14 pro e al dynamic island che ricordo non trovate sull'iPhone 14 ma solamente su iPhone 14 pro perciò ogni nuovo iPhone di quest'anno include funzioni innovative per la sicurezza come rilevamento incidenti, ovviamente tutti i device hanno ios 16 perciò massima esperienza possibile sia dal punto di vista software che per quanto riguarda la connettività con 5G dunque riassumendo abbiamo un sistema principale di fotocamere da 48 megapixel l'ultra grand'angolo, il teleobiettivo la fotocamera frontale true depth con l'autofocus questa luminosità è sempre in piena abbiamo fino a 29 ore di riproduzione video per dirvi un dato che vi dà un'idea della batteria uno zoom ottico con l'estensione totale a 6x questo vuol dire che c'è uno zoom tra l'altro in più che vi dà la possibilità di darvi mettiamo questo soggetto qua questo è il grand'angolo, questo è l'ultra grand'angolo questo è il 2x e questo è il 3x il 2x è un bello zoom senza perita di qualità non male su tutti i 14 pro e i 14 pro max abbiamo la 16 bionic perciò una cpu da 6 core e una gpu da 5 core e neural engine a 16 core ovviamente il face ID abbiamo il 5g ultra rapido e il ceramic shield frontale perciò abbiamo un vetro fortissimo l'acciaio chirurgico inossidabile sempre per quanto riguarda le parti laterali è resistente anche all'acqua a profondità massima 6 metri fino a 30 minuti ovviamente è compatibile con gli accessori MagSafe come custodie, portafogli, come questi wallet qui che adesso andiamo a provare e le capacità di archiviazione vanno a 128, 256, 5, 12 e 1 terabyte Mugio che è un produttore di cover che quest'anno tra l'altro ha cambiato il case famoso per le sue cover in pelle abbiamo andato da provare per il 14 pro questa bellissima secondo me cover in pelle ecco pelle pelle vegetale perciò vi mostro quelli che sono rispetto agli scorsi anni le novità allora ovviamente abbiamo dei packaging diversi che cercano di impattare meno sul pianeta ma abbiamo dei dettagli che ricordano molto le cover Apple perché finalmente abbiamo i tasti in metallo in rilievo che sono una cosa che da quando Apple ha introdotto mi è sempre piaciuta tanto e sono in colorazione come riuscite a intravedere dentro c'è sempre la tecnologia MagSafe che permette di utilizzare accessori del genere ora proviamola per esempio su questo 14 pro che sembra essere proprio la sua ok non male la schittina Mugio sempre qua in basso che proprio serve a ricordare il brand e la pressione dei tasti scusate la luminosità che si setta sempre al massimo la pressione dei tasti e la sentite super 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 buona anche la connettività MagSafe perciò per gli accessori va bene perciò in un wallet di questo genere ci sta benissimo la carta Hype come vi ho detto all'inizio ricordatevi il link in descrizione per 25 euro di non è il tuo portafoglio certo perché è abbinato al mio 13 pro in questo momento vediamo ovviamente l'audio è sempre super non voleva essere un gioco di video gaming però sapete che la grafica di questo gioco è sempre stata folle comunque display e audio veramente pazzeschi ovviamente qui abbiamo un display veramente incredibile ragazzi abbiamo un super retina xdr abbiamo il dynamic island che è un'esclusiva della gamma pro una tecnologia promotion con il fresh rate adattivo fino a 120 hertz il display è always on che è anche questo una cosa carina è un sdr come display tenete conto che sul pro abbiamo 2556 per 1179 pixel a 460 ppi mentre sul pro max 2796 per 1290 pixel a sempre 460 ppi e il contrasto tipico è sempre 2 milioni a 1 su entrambi su entrambi il true tone ampia gamma cromatica p3 c'è sempre il tocco con il feedback aptico abbiamo una luminosità tipica su entrambi da 1000 nit di picco 1600 nit e quando invece siete in outdoor la luminosità di picco raggiunge i 200 nit una cosa incredibile tenete conto che l'iphone 13 la sua luminosità di picco era 1200 fine qua arrivare a 2000 difatti avete visto durante il video da fastidio a volte si è imposta la luminosità massima ora ragazzi parliamo di fotocamere vi devo annoiare nuovamente perché prima sono stato abbastanza generico allora il grand'angolo ha un f da 1.78 l'ultra grand'angolo ha un f da 2.2 e il teleobiettivo è un f 2.8 stabilizzazione ottica dell'immagine sul sensore di seconda generazione e abbiamo su entrambi perché stiamo parlando della gamma pro lo zoom in ottico 3x zoom out ottico 2x estensione totale dello zoom ottico è 6x ve l'ho mostrata e lo zoom digitale fino a 15 ma lì c'è perita di qualità il flash è un true tone adattivo poi abbiamo il fotonic engine che serve per fare delle foto incredibili deep fusion lo smart hdr 4 sempre per quanto riguarda le foto la modalità ritratto con effetto bokeh avanzato controllo di profondità ma ce la portiamo già dalla gamma 13 e ci portiamo sempre anche l'illuminazione ritratto con i 6 effetti modalità notte ma abbiamo anche i ritratti in modalità notte abbiamo sicuramente gli stili fotografici abbiamo sempre la fotografia macro che non è stata tolta e l'apple pro raw potete registrare ovviamente di video incredibili anche qua abbiamo la modalità cinema che è stata mostrata anche l'evento la registrazione video in progresso fino a 4k a 30 fps o 1080 a 30 fps sui modelli con 128 di archiviazione perciò c'è sempre quel limite dobbiamo prendere almeno un 256 per filmare in progresso a 4k a 30 fps ok questa è una cosa interessante la modalità azione ha una stabilizzazione incredibile ed è una cosa che non c'era sulla gamma 13 pro max va detta è stata mostrata molto bene all'evento per quanto riguarda la sicurezza abbiamo detto ss emergenze che c'era anche sul 13 pro max ma c'è anche rilevamento incidenti che è una feature che abbiamo sui nuovi pro a confronto il mio 13 pro con il 14 pro come vi ho mostrato la differenza di colore è abbastanza evidente e anche la fuoriuscita del gruppo fotocamere è abbastanza evidente perciò sarà uno dei segni diciamo contraddistintivi di questi iphone a colpo d'occhio oltre ovviamente ai colori se si indossassero magari delle cover diverse beh una cosa che magari potrebbe incuriosire è vedere se le cover di iphone 13 pro vanno su 14 pro per esempio questa è una cover di un iphone 13 pro come vi sto mostrando le cover di iphone 13 pro magari sotto possono anche andar bene qui è già diverso l'interruttore e poi non entra non entra sul gruppo fotocamera proprio non ce la fa perché è troppo esageratamente esageratamente magari opinabile è troppo grande rispetto al foro che è stato fatto su queste cover ma al contrario può funzionare dunque se io metto la cover di iphone 14 pro sul mio 13 pro come calza vediamo abbiamo visto che però l'interruttore è un po' diverso difatti eccolo qua vedete che non possono andar bene gruppo fotocamera e magari ancora ancora si vede che c'è come con l'X e l'XS c'era quel millimetro un poco più di differenza però già qua non va bene perciò la togliamo subito perché non vogliamo rovinare questa bella cover allora ragazzi spero che vi siate già iscritti al mio canale se non l'avete fatto ancora fatelo perché Amox Italia cerca sempre di portarvi in anteprima o se non altro con una buona tempistica video su prodotti soprattutto Apple perché siamo esperti qui e super appassionati del brand prima possibile dunque iscrivetevi lasciate un bel like per supportare attivate la campanellina per non perdervi anche i prossimi prodotti Apple in anteprima qui sul canale e ci vediamo sempre qua ma anche sul mio canale Instagram e anche su TikTok ricordatevi di iscrivervi ciao ciao ciao